E se non fosse per Dio non saremmo qui a parlarne e comunque dobbiamo, e qualcuno anche se la vuole ignorare, alla fine Dio, la Pasqua, è colui che ha creato ogni cosa in noi e intorno a noi. Quindi anche se noi vogliamo ignorare, tutto parla di quello che Dio è. Anche se viviamo nel libero arbitrio, la prova è che se viviamo senza Dio, le cose possono solo che peggiorare. Anche venendo in chiesa, perché alcune volte veniamo in chiesa, ma non ci arrendiamo veramente a Dio, non facciamo veramente quello che dice, ed ecco che tante persone poi parlano che Dio non funziona, che Dio non è buono, ma la verità... Potete andare nell'altra stanza in fondo, se è qua troppo vicino. Ok, grazie. Quindi abbiamo visto che molti ragionano anche in questo modo. Se Dio ci fosse, tante cose non accadrebbero. Se Dio ci fosse, io non avrei subito determinate cose. Ma non è così. Dio ha creato il libero arbitrio, ci ha detto come funziona, e se noi mettiamo in pratica quello che ci dice, le cose migliorano anziché peggiorare. Quindi cosa rimane da fare? Abbassa pena pena il mio volume. Rimane di ascoltare quello che Dio dice. Se non hai un'idea di come funziona il mondo evangelico, tendenzialmente il mondo evangelico, singolarmente come persona, deve leggere ogni giorno un capitolo, due capitoli, no? E ogni giorno deve avere il suo rapporto di preghiera. Non c'è bisogno di andare in un luogo, ma ogni giorno dobbiamo avere l'appuntamento con Dio e man mano che leggiamo, più comprendiamo, più conosciamo Dio e più possiamo vivere questa dimensione. Stiamo vedendo in questo periodo la logica di Dio. La logica di Dio è diversa dalla logica dell'uomo. Soprattutto quando abbiamo difficoltà, noi tendiamo ad arrenderci, ad arrabbiarci, a buttare la spugna. Gesù, Dio, no. Quindi già lì possiamo capire che se Dio ha fatto una cosa del genere, probabilmente ci sono altre cose che Dio fa in un modo diverso, risponde in un modo diverso. Il Nuovo Testamento è quella cosa che leggiamo prima di tutto. Un errore che è stato fatto nel mondo cristiano in genere, se io faccio la domanda, chi ha la Bibbia a casa, tutti ce l'hanno, no? Solo che la leggiamo come un libro. E tutti partiamo dall'inizio, da Genesi. E arriviamo a vedere un Dio rigido, che punisce, che ha molte regole. Addirittura c'è il libro dei numeri, che la gente si perde. Rituali dove c'è del sangue, degli animali. Ma già i primi cinque libri sono i libri della Torah, che sono il libro degli ebrei. Mentre tutto quello che segue è la storia che Dio ha creato attraverso l'uomo, nei vari periodi, da Davide a Salomone, a Zaccaria, no? Quindi vediamo tutta una storia. Noi dovremmo iniziare a leggere dal Nuovo Testamento, chiamata anche la Buona Novella, cioè la Bella Notizia. Se si chiama così, ci sarà un motivo. E soprattutto la Buona Novella è il periodo di storia da quando è venuto Gesù in poi. Quindi ha creato l'uomo, poi a un certo punto, in tutto questo periodo, l'uomo non è riuscito a mettere in pratica i dieci comandamenti, a seguire quello che Dio diceva, e Dio ha ristabilito qualcosa, mandando Gesù, circa duemila anni fa. E lì inizia, tant'è vero che il nostro calendario parte da Cristo in poi, no? Cioè, avanti Cristo, dopo Cristo. Duemila e ventidue è dopo Cristo. Quindi, se addirittura Gesù Cristo, da quel momento, persino il calendario, ha un conteggio diverso, che ci piaccia o no, questo Gesù è esistito, ha detto delle cose, e se guardiamo attorno a noi, quando mettiamo in pratica la parola di Dio, almeno il Nuovo Testamento per noi, vediamo che le cose, chiamiamole pure coincidenze, cambiano, vanno meglio. Non hai bisogno di una struttura, hai bisogno che ogni giorno ti confronti con la sua parola. C'è un bellissimo versetto, in Proverbi 4,22, nel Vecchio Testamento, che dice, la mia parola è guarigione per chi l'ascolta e vita per chi la trova. Quindi, quando tu ti incominci a interessare alla Bibbia, perlomeno il Nuovo Testamento, che è più facile, poi anche il Vecchio, non voglio escludere il Vecchio, l'Antico, più che Vecchio, nell'Antico noi vediamo delle forme che parleranno di quello che accadrà, di quello che sarà il Nuovo Testamento. Ma il Nuovo Testamento, infatti vedete il Nuovo Testamento, qualcosa, il Testamento è qualcosa che vuol dire che quando qualcuno muore ti lascia qualcosa. Quindi, alla morte di Gesù, il Nuovo Testamento lascia qualcosa a chi lo crede, lo riceve. E noi siamo qua per dire, dalla mia vita in persona, più quelli che magari sono a fianco a voi, persone che da quando hanno ricevuto il Nuovo Testamento, hanno creduto in Gesù, le cose hanno cominciato a cambiare. E non c'è da dire grazie a nessuno se non a Dio. Tu puoi andare da chi vuoi, dal dottore, dal medico, dallo specialista, dal terapista, ma quando il tuo cuore è ferito, solo Gesù ci può mettere mani. Solo Gesù ti può anche far capire cosa non va nel tuo cuore. Non facciamo come Adamo ed Eva, no? Che Adamo ha dato la colpa a Eva, Eva ha dato la colpa al serpente, il serpente è rimasto fregato perché non poteva dare la colpa a nessuno. Quindi, se tu vuoi guarire, se tu vuoi essere benedetto, guarda dentro di te, non aspettare che gli altri facciano qualcosa perché Dio ha fatto qualcosa per te. Se noi guardiamo a un uomo, finiamo come quell'uomo, ma se guardiamo a Dio, finiamo come Dio. E quindi è molto meglio. Quindi, la Pasqua, questo giorno che noi stiamo festeggiando, è una festa che già esisteva. È stata istituita quando il popolo di Israele è uscito dalla schiavitù dell'Egitto ed è andato verso la terra promessa. Prima di uscire è stato ucciso un agnello e con il sangue è stato messo sulla porta, sugli architravi, sugli stipidi, per impedire che l'angelo della morte entrasse ma voleva dire anche passaggio. Ci voleva il sacrificio di un agnello per impedire che la morte entrasse nella vita degli ebrei. E poi, dopo questa cerimonia, dopo questo passaggio, di questa esperienza, hanno attraversato il Mar Morto, forma del battesimo, e a quel punto sono stati liberati. E Gesù, circa due mila anni dopo, è morto durante le feste di Pasqua. perché Pasqua viene dall'aramaico che vuol dire passaggio, passare oltre. Quindi dall'Egitto sono passati alla terra promessa e quando è venuto Gesù, che passaggio c'è stato? Dalla legge alla grazia. Se non veniva Gesù, prima di tutto noi non l'avremmo saputo perché Gesù si è fatto conoscere da chi non lo cercava, cioè noi. Ricordiamoci che Gesù è ebreo, non è romano, non è cattolico, non è ortodosso, è ebreo. Ed era venuto per gli ebrei. Ma siccome loro non lo hanno riconosciuto come il Messia, vi ricordate? Abbiamo detto l'altra domenica, che era la domenica delle palme, loro si aspettavano il Messia, cioè colui che veniva a liberare il popolo. E se lo aspettavano come? Come un re, con la carrozza, visibile, portentoso. Invece hanno visto arrivare un uomo semplice, vestito semplicemente, sopra un asino, e con delle palme a terra. Ora, ecco, vedete, cominciamo a capire la logica di Dio. Dio non guarda a come ti vesti, a chi sei, quanti soldi hai, come sai parlare. Dio guarda al tuo cuore. E se ci ricordiamo bene, non solo quando Gesù è entrato per essere il Messia a Gerusalemme, prima degli ultimi giorni della sua vita, ma quando è nato, è nato in una stalla, non in un ospedale, non in un albergo, in una stalla. già qui ci deve far capire, ma questo Dio, che è così potente, viene in una maniera che ci fa stupire per ogni cosa. Quindi, quando tu vai a leggere, e cominci a leggere, e cominci a confrontarti, tu ti renderai conto quante volte falliamo nel dire che crediamo in Dio. perché quando va bene, stiamo bene, siamo in salute, abbiamo fede e siamo capaci, ma quando il fisico, la mente, l'anima, il cuore viene meno, sembra che il mondo finisce, sembra che attorno a noi c'è il buio. Perché? Perché stiamo ragionando secondo la nostra logica, perché per noi avere fede è stare bene. Paolo dice Signore aiutami e Gesù gli risponde la mia grazia ti basta, perché quando sei debole, tanto sei forte. Vedete? Un altro atteggiamento. Noi quando siamo deboli siamo depressi, demoralizzati, abbattuti, non è vero? Ma quando tu hai fede, no, io ce la faccio, nel nome di Gesù, io dichiaro e incominci a lottare contro i pensieri negativi, incominci a vedere da dove viene l'aiuto, incominci a parlare come parla Gesù nelle difficoltà, ecco perché leggendo la Bibbia tu vedi gli esempi di fede e allora lo Spirito Santo te li ricorda perché tu li possa adoperare. Il Nuovo Testamento, come la Bibbia, prova a immaginarlo che è l'armadietto del cassetto degli medicinali che tu apri e prendi il medicinale specifico per il problema specifico e nella Bibbia ci sono parole specifiche per l'anima, per il cuore, per l'intelligenza, per le capacità, per il perdono, la misericordia, la grazia, eccetera, eccetera. Ci sono tante parole ma se non le sai non puoi prendere una se hai che ti devo dire mal di testa non prendi un disinfettante no? Devi prendere una medicina specifica e così è con la parola di Dio ecco perché tanta gente Dio mi ha deluso Dio non è capace può essere che tu non sai cosa dovevi fare in quel momento ad esempio speranza non è certezza non è fede la certezza è fede se tu devi provare a scendere devi essere sicuro che lo scalino ti mantiene non puoi avere la speranza che ti mantiene perché poi quando succede qualcosa ma io avevo fede no, tu avevi speranza non stavi facendo la cosa nel modo giusto quindi in questa festa Gesù figlio di Dio è venuto a morire per i nostri peccati ha prodotto un qualcosa che ci permettesse noi da prima di conoscere Gesù a passare ecco la Pasqua in una vita spirituale tu devi andare via di qua con la certezza o con la conferma se ce l'hai già tanto meglio che accettare Gesù dentro di te si crea quel ponte che ti dà la capacità di diventare autonomo capace libero perché Dio diventa parte di te quando tu preghi non fai un elenco di cose che non vanno ma parli con Gesù la preghiera è parlare con Gesù non puoi leggere un foglio non puoi ripetere delle preghiere come un pappagallo Dio vuole sentire il tuo cuore e magari Dio ti dice io ti voglio aiutare ma hai qualcosa nel tuo cuore che deve perdonare qualcuno sapete che la maggior parte dei problemi di qualsiasi origine nascono dal fatto che noi non perdoniamo qualcosa a qualcuno che ci ha fatto male e se voi non perdonate gli altri dice il Padre nostro io non perdono voi è inutile che cerchi di girare l'ostacolo Gesù ti porta lì se hai qualcosa contro qualcuno se stai parlando male di qualcuno vuol dire che ce l'hai con qualcuno giusto? quindi quando tu vai alla presenza di Dio Gesù cosa ti dice? pensi che lui non lo sappia? ma ti dirà vai fai pace e poi vieni da me perché si cominciamo a fare no ma non mi interessa ognuno fa la sua scelta no tu devi avere pace perché sennò rovini il tuo rapporto con Dio ecco perché tanta gente va in chiesa prega fa l'offerta pulisce fa di tutto ma è infelice perché? perché il non perdono nel cuore di quella persona è un cancro anche malattie tipo il cancro possono andare via nel momento in cui tu cominci a perdonare perché Dio non è che manda le cose assolutamente ma Dio si serve dei problemi per farci capire che non stiamo andando come lui vuole infatti quando qualcosa vediamo che non passa ci fermiamo e diciamo oh Cristo oh Gesù e tutte a me succedono e come mai e perché? continua a fare domande ma incomincia anche ad ascoltare Dio che cosa ti risponde perché siamo tutti bravi a scrivere buona Pasqua Pasqua con te ti auguro buona Pasqua ma è una parola perché la Pasqua il passaggio deve stare nel tuo cuore sapete che quando il nostro cuore è ferito tutto ciò che facciamo è sbagliato scegliamo la persona sbagliata scegliamo il momento sbagliato prendiamo le decisioni sbagliate perché in quel momento siamo influenzati dal dolore e magari quel lavoro non va bene quella persona non va bene ma in realtà sta parlando il dolore è meraviglioso quando sento qualcuno che parla non so di mia moglie o di mia figlia che sono in ambienti dove ci sono colleghe e cose e ogni tanto sento a casa Auriglio ma tu non litighi con quella ma quella con me non va d'accordo quella litiga con tu solo con te vanno tutte la risposta è quella perché loro non si fanno prendere dal risentimento non è che i problemi non ci sono ma avendo Dio tu perdoni allora non porti a casa il rancore non porti a casa l'amarezza non porti a casa non rovini il tuo rapporto con Dio amè quindi anche tu impara da Gesù con questa Pasqua almeno una cosa perdona perché se tu perdoni gli altri quando ti rivolgi a Dio non c'è niente tra te e Dio ma se invece noi abbiamo del rancore quando andiamo a pregare sì diciamo qualcosa ma non arriva a Dio non sentiamo quello che Dio dice la logica di Dio ci insegna che tante cose che facciamo e diciamo ci possono rovinare no? attenzione che quella cosa ti fa male noi pensiamo al cibo mentre Dio dice no non è quello che mangi che ti contamina ma è quello che esce perché viene dal cuore tu vuoi sapere come ragiona una persona mangia insieme a quella persona stai un po' di tempo e vedi ridendo scherzando mangiando che cosa dice? ti posso dire una cosa tutto quello che dirà ha a che fare con il suo cuore ti renderei conto se ha perdonato se è una persona ferita se è una persona bugiarda perché? perché dalla bocca esce quello che c'è nel cuore e Gesù ti aiuta a capire l'albero che hai di fronte avessimo saputo di queste cose prima quante scelte sbagliate non avremmo fatto perché eravamo più creduloni più semplici oppure non avremmo perso noi l'occasione perché una persona ferita attira persone ferite ecco perché dice tutte io me le vado trovando queste persone sì perché quello che tu in un primo momento provi è empatia con la persona ferita oh guarda ci capiamo abbiamo gli stessi problemi all'inizio ma dopo qualche mese massimo un anno o due i tuoi problemi mi danno fastidio ho già i miei ma non erano gli stessi che ci volevano bene che ci facevano stare insieme ecco perché la prima cosa che Gesù fa è liberare il nostro cuore dalle ferite allora quando ti guardi allo specchio sei veramente te stesso te stessa perché non ti lasci non vivi in funzione di quello che hai passato o vissuto amen perché ognuno di noi può raccontare degli episodi dalla nascita a oggi episodi di sofferenza di litigi di abbandoni di tradimenti di violenze di perdite di cari e queste cose se non guarisci te le porti dietro c'è chi parla troppo chi è aggressivo chi è sempre chiuso bisogna avere il giusto equilibrio questo lo possiamo fare solo quando il nostro cuore viene aggiustato dal Signore Gesù cerca persone che hanno fiducia in Lui nella Sua parola anche quando Gesù ha parlato dell'inferno Gesù è venuto sulla terra a parlare dell'inferno qualcuno dice ma è cattivo no sta parlando dell'inferno perché tu possa capire che quando stai affrontando qualcosa di difficile o di sbagliato sai che c'è qualcosa di peggio di quello che stai affrontando quindi in realtà ti incoraggia a resistere perché se cadi in quella situazione ti porta all'inferno non è che ti manda però vedete Dio adopera tante cose con cui ci aiuta a comprendere come farcela come superare le situazioni la Pasqua è anche la fine dell'esistenza di Gesù sulla terra in tre anni Gesù ha compiuto ha dimostrato il regno di Dio ma quando è arrivata la Pasqua sappiamo che è morto a 33 anni lui sapeva che stava andando verso la morte e sapeva che stava finendo il suo il suo scopo il suo il suo mandato ma aveva 33 anni poteva benissimo dire padre fammi fare un'altra 10 20 40 50 anni a che età si moriva all'epoca 50 anni 60 anni posso fare di più ma in tre anni lui ha formato delle persone e con l'aiuto della parola e dello spirito santo a oggi è arrivato il messaggio di Cristo tu stai ascoltando quello che Gesù ha predicato duemila erotti anni fa e si è tremandato da uomo adesso c'è il cartaceo c'è la Bibbia ma per i primi cento anni si andava per manoscritto per le lettere per anzi 60 anni la testimonianza di chi ha vissuto con loro che hanno pensato bene di scrivere chiaramente ispirato da Dio ma in quei tre anni lui ha finito di compiere la sua opera e in quei tre anni ha dimostrato il regno di Dio quella meravigliosa preghiera che noi diciamo tutti ma che non riflettiamo mai il padre nostro quando dice venga il tuo regno io quando ho scoperto cosa vuol dire venga il tuo regno che cos'era il regno se potevo riceverlo del regno se era un beneficio per me il regno quando mi sono interessato ho scoperto tutto questo ho detto Dio esiste ed è venuto per portare questo regno e io ho il regno quindi tu hai il regno o puoi ricevere il regno di Dio per questo è venuto Gesù ha insegnato dimostrato lasciato un piano di salvezza ha fatto in modo da dare ad ognuno di noi la possibilità di salvarsi e soprattutto di ritornare a Dio Pasqua dal peccato al perdono senza la venuta di Gesù noi da Dio non ci potevamo andare che sia ben chiaro non è una squadra che gioca per noi ha fatto qualcosa che noi dobbiamo prenderci con la fede e poi avere fede vuol dire mettere in pratica la parola di Dio e il diavolo verrà sempre a cercare di mettere dubbi vi ricordate il diavolo ad Adamo ed Eva veramente Dio ha detto che tu non devi non puoi e se lo prendi non è che diventi come lui anche con Gesù no? il Satana ha tentato Gesù dicendo se tu sei il figlio di Dio ha messo in dubbio quindi verrà anche da noi a dire se tu ascolti questo messaggio stasera e pensi di portare a casa un risultato sì sì è così ecco perché il diavolo quando vedi che ti vengono i dubbi i dubbi non vengono da Dio viene dal diavolo perché Dio porta certezza così ci ha dato modo di capire che ha separato cosa ci ha separato da Dio e cosa ci separa di Dio il peccato perché Gesù è venuto a Pasqua a morire per i nostri peccati la logica di Dio ci stupirà sempre saremo sempre sorpresi perché farà le cose in un modo diverso e probabilmente contrario a quello che noi facciamo se tu vedi anche l'intervento di Dio nella vita dell'uomo attraverso il suo unico figlio pensiamo una cosa Adam ed Eva li ha messi nel giardino gli ha dato tutto potevano governare non avevano bisogno di niente però gli ha dato anche il libero arbitrio ha detto guarda fai tutto ti dico non toccare di quell'albero del bene e del male loro cosa hanno pensato posso fare a meno di Dio figurati se io non devo sapere il bene e il male figurati se lui a me mi può dare dei consigli o devo aver paura di fare una cosa perché lui dice di no e l'hanno fatto risultato fuori dal giardino dall'Eden fuori dalla intimità con Dio sofferenza maledizione è peccato ora a Pasqua le cose non sono cambiate sapete perché come società stiamo andando male perché stiamo andando verso la guerra perché ci sono perché ci stiamo allontanando dalla parola di Dio forse andiamo in chiesa ma la Bibbia non la leggiamo abbiamo le Bibbie in casa anche a tre volumi ma non la leggiamo e soprattutto anche se la leggiamo quando parti da Genesi ti sei bella che hai perso nel deserto anche tu ma quando incominci a leggere incominci a farti delle domande incominci a cercare l'autore del libro allora incominci a vedere che Dio ha fatto qualcosa attraverso Gesù per ripristinare quello che Adamo e Eva hanno rovinato per la colpa di Adamo e Eva che rappresenta noi perché noi avremmo fatto la stessa cosa siamo stati messi fuori e dopo migliaia di anni Dio ha mandato Gesù a creare un ponte con il suo sacrificio per dire ritornate a me perché noi non saremmo mai potuti andare a Dio perché c'era un abisso e solo Gesù come la croce diciamo ci permette di passare attraverso di Lui e ritornare dove? dove andiamo attraverso Gesù? andiamo al Padre e questo si chiama Pasqua si chiama Passaggio ed è una grande benedizione mandò suo figlio a ripristinare legalmente e concludo quando noi facciamo qualcosa e sbagliamo un disegno viene male e rifacciamo prendiamo una cosa si rompe buttiamo adesso i matrimoni la vita abortiamo uccidiamo separiamo non c'è più buttiamo via tutto Dio quando ha fatto Adam ed Eva e ha rovinato tutto poteva benissimo dire ok in fondo sono solamente due giusto? polvere erano e polvere ritornano e invece che ha fatto? le ha fatti andare avanti le ha dato dei consigli le ha dato una direzione le ha dato dei segni perché già nel Vecchio Testamento no? se voi pensate alla Pasqua degli ebrei in Egitto e disse se qualcuno che non è ebreo viene nella vostra casa perché crede nel vostro Dio anche loro che non sono ebrei ma mangeranno l'agnello saranno in casa saranno benedetti saranno protetti quindi già si parlava anche nel Vecchio Testamento che chi di altre nazioni religioni avesse creduto in Dio avrebbe ricevuto la salvezza e invece cosa fa? invece di buttare via come noi faremmo perché tutti quanti noi onestamente quando una cosa si rompe la buttiamo cosa ha fatto? ha preso il figlio l'ha mandato sulla terra a morire per sopperire al peccato per un uomo siamo caduti per un uomo Gesù Cristo noi siamo riportati alla presenza di Dio questo noi festeggiamo a Pasqua qualcosa che Gesù ha fatto per noi per riportarci nel ruolo nella posizione in cui Dio aveva stabilito ecco la logica di Dio noi non siamo così noi viviamo riprendendo ci piace girare pagina scrivere una cosa nuova il nostro pensiero non è quello di Dio per fortuna i pensieri di Dio sono più alti allora se i pensieri di Dio sono più alti la soluzione di Dio è diversa abbiamo visto tanti casi in chiesa di persone che avevano malattie dove il dottore ha detto non puoi fare nulla ma quando è arrivato nella mente della persona abbiamo pregato la situazione che anche il medico ha detto com'è possibile chiama la coincidenza ma noi sappiamo che da quando noi cominciamo a credere la potenza di Dio si muove secondo la parola c'è scritto chi crederà nel mio nome imporrà le mani agli ammalati e questi guariranno e soprattutto a Pasqua una cosa nessuno si aspettava nemmeno il diavolo che Gesù risorgesse l'unico che è risorto dei morti è il nostro Gesù tant'è vero che quella mattina la Madonna Maria e un'altra sono andate al sepolcro perché dovevano andare a ungere per la sepoltura no? e invece hanno trovato la tomba aperta un angelo che diceva che non è più qua perché? perché era risorto e siccome era morto di venerdì e sabato non si poteva fare nulla se no l'avrebbero unto ma nessuno poteva toccare il corpo di Gesù vedete tutto è stabilito perché ogni cosa deve dare conferma della parola di Dio con la sua resurrezione crea un passaggio del ponte per ritornare al Padre l'unica cosa di cui ha bisogno è agire si può è agire affinché Lui lo riconosca amén che tu possa sapere chi è Lui cosa può fare perché quando avrai chiamato il suo nome avrai invocato il suo nome ogni tua preghiera sarà corrisposta quindi la logica di Dio è uguale ai pensieri di Dio per avere i risultati di Dio adesso se vogliamo far venire passeremo alla presentazione e così prima che arriva voglio comunque spiegarvi qualcosa della presentazione la presentazione è biblico e non è un battesimo il battesimo si fa quando la persona è cosciente è motivata perché nel battesimo accetta qualcosa nessuno può accettare per te una dichiarazione di fede oppure quando Giovanni Battista predicava il battesimo cosa diceva agli adulti pentitevi razze di vipere la scura è già pronta alla base delle radici per togliere tutto quello che è peccato quindi si può dire una cosa del genere a dei bambini no quindi assolutamente il battesimo non è qualcosa che si fa ai bambini qual è la differenza cosa dice la parola di Dio e cosa dice l'uomo perché qua siamo davanti a chi battezza ma noi dobbiamo vedere cosa dice la tua Bibbia tu non troverai nella tua Bibbia da cristiano di battezzare dei bambini quello che benedice i bambini sapete cos'è quello che protegge il bambino non è il battesimo ma è la santità dei genitori c'è una parte dove c'era un ragazzino un bambino cieco fin dalla nascita sapete cosa dicono gli ebrei i sacerdoti che stavano là quando Gesù stava per guarirlo dice per il peccato dei genitori è così vedete quindi era chiaro per fare una domanda del genere che anche le conseguenze del peccato possono provocare malattie nei propri figli quindi se è vero se è la logica di Dio è inutile prendersela con Dio ma prendiamosela con i genitori che vivono lontani da Dio e poi battezzano i bambini pensando che un po' d'acqua in testa risolve il problema con Dio e non stiamo parlando di salvezza stiamo parlando di benedizione ok perché in un'altra parte adesso vedremo che Gesù gli portano i bambini e gli apostoli gli dicono no no non disturbate il maestro cosa dice Gesù no lasciateli venire perché a loro appartiene il regno di Dio anzi dice se voi non diventate come questi bambini voi non entrate nel regno dei geni ora la salvezza di andare in paradiso un bambino ce l'ha da quando nasce fin quando non conosce peccato amen le conseguenze del peccato di genitori che peccano e non si domandano se la loro obbedienza o disubbedienza può colpire i loro figli questa è un'altra cosa ma il peccato è sempre discendente il peccato dei figli non cade sui genitori ma il peccato dei genitori cade sui figli è la regola di Dio no? sarete benedetti dalla terza alla quarta generazione o maledetti dalla terza alla quarta generazione cosa benedice e cosa maledice la disubbedienza alla parola di Dio eh ma io non ci credo e ritorniamo all'inizio del messaggio c'è gente che dice che se Dio esisteva certe cose non accadevano Dio ha detto come funziona ora noi o lo crediamo o lo disubbidiamo però è facile vedere nella vita di chi disubbidisce che le cose non vanno dice ma quello andava in chiesa ma tu non puoi vedere se quella persona venendo in chiesa veramente metteva in pratica la parola di Dio amén quindi ognuno deve seguire quello che Dio dice non guardare tu non diventi cristiano guardando un altro cristiano tu diventi cristiano guardando a Dio amén l'insegnamento di Dio lo stile di vita che dimostra l'insegnamento sono le preghiere fatte con fede che proteggeranno e benediranno il bambino non è nel giorno della presentazione o del battesimo che da quel giorno cambieranno le cose ma dal giorno del concepimento al giorno della nascita per tutto il periodo che crescerà nella loro casa è lì che il bambino impara ad avere fede se tu hai genitori che leggono pregano che risolvono le cose con Gesù il bambino crescendo imparerà Gesù ci sono bambini che non vogliono sapere di Gesù o hanno un'idea sbagliata di Gesù perché il padre e la madre non hanno mai pregato non hanno mai letto non hanno mai superato una prova di fede ma noi siamo chiamati a credere in Dio e se diventi papà e mamma è importante che devi sapere che la fede non la ricevono andando in chiesa la ricevono guardando i genitori genitori santi fanno figli santi genitori felici fanno figli felici genitori che litigano infelici faranno figli infelici è un dato di fatto però se accetti Gesù puoi cambiare da oggi in poi una nuova vita ecco la Pasqua il passaggio si diventa figli di Dio sempre e soltanto mediante la fede e non mediante il battesimo vi leggo questo e poi passiamo alla presentazione in Giovanni 1 10 egli la parola era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui ma il mondo non lo ha conosciuto egli è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto ma tutti coloro che lo hanno ricevuto egli ha dato l'autorità di diventare figlio di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà di uomo ma sono nati da Dio questo è il versetto con cui inizia Giovanni ed è molto chiaro i miei figli non sono diventati cristiani perché io faccio il pastore ma perché loro a un certo punto hanno deciso di credere in Dio di mettere in pratica la Bibbia e di seguirlo loro ricevono per la loro fede non per la mia io ho insegnato ho detto ma alla fine loro devono riscontrare personalmente ricordati ogni volta che Gesù guariva qualcuno faceva le domande che cosa vuoi da me che io faccia al cieco possibile che vai dal cieco e dici al cieco cosa vuoi che faccia una caratteristica è l'umiltà e il cieco ha detto signore che io veda qualcun altro avrebbe detto e non vedi che sono cieco vale la pena che vengo da te che mi fai pure la domanda cosa voglio ma perché Dio dalla risposta che dai capisce se puoi ricevere quindi quando vai a pregare portando il tuo bisogno prova a sentire Gesù che ti chiede ok sei venuto per questo cosa vuoi che io faccia ma se tu vai da Dio e fai la domanda Gesù se puoi se vuoi ti posso garantire che non lo riceverai il se è una negazione della certezza di Dio noi non abbiamo se ma noi sappiamo ciò che è giusto preghiamo nel modo giusto e ci aspettiamo quello che è scritto noi non inventiamo niente ma quello che c'è scritto ci benedice quello che c'è scritto mette in fuga il diavolo quello che c'è scritto è la verità e ci rende liberi amén amén volete venire in luca 18 15 quella che abbiamo detto in luca 2 22 c'era vedite c'era Simone mostro vedendo che ha lo stesso nome un uomo saggio timorato di Dio prego salite che quando Gesù veniva presentato al tempio e furono compiuti i giorni della purificazione di lei della legge di Mosè portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore e di dunque Simone non lui ma quell'uomo saggio mosso dallo spirito venne nel tempio e come i genitori vi portarono il bambino Gesù per fare a suo riguardo quello che prescriveva la legge egli lo prese tra le braccia lo benedisse dicendo grazie Dio per quello che tu hai fatto vedete ha preso Gesù un uomo timorato di Dio al tempio e lo ha alzato non era un battezzo non era un battezzarsi anche perché la parola battezzare vuol dire immergere e noi non immergiamo ma abbiamo preparato i genitori ad essere gli esempi biblici di Dio loro vedono la preghiera dei genitori vedono la lettura della parola di Dio e vedono come aggiustano la loro relazione con Dio quindi alziamoci pure in piedi allora che sia chiaro che non determiniamo la salvezza di Simone la presentazione è presentare a Dio il bambino per affidarlo a lui ma in realtà sono i genitori che sotto la guida della parola dello Spirito Santo guideranno il bambino fin da piccolo per dedicarlo al Signore perché possa incominciare a conoscere e a ricevere Gesù come Signore e Salvatore siamo d'accordo? questo facciamo vieni qua ciao tra l'altro è anche mio nipote e quindi doppio onore preghiamo per Simone padre nel nome di Gesù ti ringrazio per questo meraviglioso dono di poter innalzare questo bambino posso alzarti un attimo? vieni qua vado come pesante vieni qua vogliamo presentarlo a te padre e benedirlo nel nome di Gesù Cristo affinché tu ne prenda cura e possa attraverso la famiglia crescere nel tuo santo nome e nel nome di Gesù Cristo prendiamo autorità contro ogni maledizione generazionale e la spezziamo nel nome di Gesù e rivendichiamo benedizioni sulla sua vita che fin da questo momento con la sua famiglia possa conoscerti riceverti e sperimentare la fede l'ubbidienza la salvezza e quindi vogliamo benedirlo perché possa prosperare in ogni cosa nella sua vita e mettiamo il tuo prezioso sangue sulla sua vita e sulla sua famiglia nel nome santo di Gesù Cristo e vogliamo rivendicare che possa anche essere uno strumento potente nelle tue mani per il tuo regno e nel nome santo di Gesù Cristo noi lo benediciamo come benediciamo il padre e la madre e la sorellina Amen vieni qua preghiamo per loro vieni Ele vieni di qua facciamo così uno di qua uno di là ok padre nel nome di Gesù Cristo ti ringraziamo per questa famiglia che ha accettato te ha iniziato la loro vita crescendo nelle tue vie arrivando al matrimonio secondo la tua parola e tu li hai benedetti li stai benedicendo sono anche un esempio nella chiesa nella famiglia e vogliamo benedirli nel tuo santo nome signore affinché potranno ecco far parte di questa opera e portare avanti il messaggio di salvezza di testimonianza per ogni persona che verrà perché nella chiesa nella nostra chiesa prima di tutto bisogna dimostrare quello che crediamo la gente deve vedere nella nostra vita e quello che diciamo facciamo perché così ci insegna il signore ed è per questo che ci benedice nel nome santo di gesù amen amen grazie opla amen adesso sei una persona nuova non ti preoccupare noi comunque rimane il nostro incontro settimanale quindi c'è una parte dove noi faremo la nostra offerta e per fare questo ogni cosa preghiamo prima padre nel nome di gesù ti ringraziamo per la parola per la pasqua per le persone nuove anche per chi ci ha seguito da casa